Chiarimenti in ordine al rapporto tra componenti del governo e piattaforma russo. Iniziative volte a garantire un adeguato controllo del territorio in provincia di Foggia a fronte dell'incremento di gravi eventi criminosi. Il deputato Antonio Tasso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. E poiché è noto che una direzione distrettuale antimafia può essere istituita solo nei capoluoghi sede di corte d'appello, si auspica la creazione almeno di un distaccamento della DDA medesima. Vede Ministro il territorio a cui mi riferisco. Grazie deputato Sasso. Passiamo all'interrogazione numero 3, 700 dei deputati Fiano e altri concernente i chiarimenti in merito alla situazione dei migranti in Italia. Con il coinvolgimento dei civili ormai centinaia di vittime sta mostrando come il Paese sia in situazione di aperta guerra civile mentre non si intravede al momento un'efficace azione diplomatica in grado di fermare il conflitto. Il Presidente del Consiglio recentemente alla Fiera del Levante ha detto che se ci sarà una crisi umanitaria l'Italia.